La Fiat Mobi potrebbe essere la nuova stella del gruppo Stellantis, sulla scia del successo della storica Fiat Mobi. Nonostante sia ancora poco conosciuta, la Mobi è un'auto compatta e versatile che si presenta come un alternativo. Il suo debutto sul mercato italiano è previsto per il 2023 e Stellantis ha grandi aspettative per cui il suo debutto sul mercato italiano è previsto per il 2023 e Stellantis ha grandi aspettative per cui La Mobi è stata progettata per essere un'auto economica, ma non per questo meno efficiente. La Mobi è stata progettata per essere un'auto economica, ma non per questo meno efficiente. Il suo consumo di carburante è molto contenuto, il che la rende una scelta interessante per coloro che cercano un'auto economica da utilizzare sia in città che in auto. La Fiat Mobi potrebbe essere la nuova protagonista del mercato automobilistico. Con la sua combinazione di caratteristiche pratiche, tecnologia all'avanguardia e prezzo accessibile, la Mobi potrebbe diventare la prossima auto preferita degli automobilisti italiani che con la sua combinazione di caratteristiche. Stellantis ha scommesso molto sulla Mobi e l'interesse suscitato dal suo debutto sembra promettente per il futuro. La nuova gamma della Fiat Mobi offre ora la possibilità di equipaggiare la vettura con sistemi di stabilità. Inoltre, tutte le versioni sono dotate di serie di aria condizionata, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e serrature, sensore di pressione degli pneumatici. Inoltre, tutte le versioni sono... La nuova gamma offre anche un design moderno ed elegante con nuove grafiche su cofano, fiancate e adesivi posteriori che ne aggiornano il look. La nuova gamma offre anche un design moderno ed elegante con nuove grafiche su cofano, fiancate e adesivi posteriori che ne aggiornano il look. La dose in più di stile e giovialità arriva con le barre longitudinali sul tetto, che ne aumentano l'altezza e rendono l'auto più imponente, oltre al tetto bicolore, coprimozzi dal design La dose in più di stile e giovialità arriva con le barre longitudinali sul tetto, che ne aumentano l'altezza e rendono sul versante dei motori. La Fiat Mobi viene proposta sul mercato italiano con un motore 1,0 flex a 4 cilindri da 71 cv di potenza massima nell'utilità. Sul versante dei motori, la Fiat Mobi I consumi medi sono di 13,5 km per litro in città e 15 km per litro nell'extraurbano, per un'autonomia per pieno salita a 700 km.